È sufficiente il software che utilizzi per fare app e legge 10 per progettare il tuo impianto VRF? Ciao e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio andarti a parlare del processo di progettazione dell'impianto VRF, quindi voglio spiegarti da dove si parte e quali sono gli strumenti che devi utilizzare per progettare un sistema VRF nel suo insieme. Prima di procedere però a spiegarti nel dettaglio tutti questi passaggi, ti voglio chiedere di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanellina, perché per noi è molto importante per poter crescere anche all'interno di questa piattaforma. Bene, partiamo dalla domanda che ti ho fatto all'inizio del video, cioè è sufficiente il tuo software che utilizzi per fare app e legge 10 per progettare un impianto VRF? Beh, la risposta è no, ma è un ottimo punto di partenza e, in effetti, se conosci tutti i segreti e i trucchi del mestiere, non ti manca poi molto per progettare alla fine anche tutto l'impianto VRF, avendo anche a disposizione solamente il software per fare la legge 10. Ma voglio ovviamente spiegarmi meglio, perché questa frase buttata di così non significa un granché. Voglio entrare nel dettaglio. Il primo passo per andare a progettare un impianto VRF è esattamente lo stesso di quello che devi fare quando vuoi progettare un impianto idronico, ovvero devi calcolare la potenza dei locali, potenza di ogni singolo ambiente che ti servirà per andare a scegliere la corretta taglia dell'unità interna che vuoi appunto andare ad installare in quella zona. È ovvio che esistono varie tipologie di unità interne, non è questa la sede in cui ti parlerò di tutte le unità interne esistenti, ma diciamo che ogni unità interna ha una sua scheda tecnica che va a fornire al progettista la potenza di quell'unità interna in riscaldamento e in raffrescamento. Perché ti dico in riscaldamento e raffrescamento? Perché quasi sempre questo impianto dal momento in cui si va a installare va a offrire il servizio sia di riscaldamento che di raffrescamento. Non è sempre così perché a volte viene installato in un secondo momento dove l'impianto di riscaldamento primario è fornito da un altro impianto oppure per esigenze di trattamento dell'aria il riscaldamento magari viene fornito in altro modo oppure viene usato il riscaldamento e il raffrescamento, era già presente un chiller. Ovviamente ci sono vari casi, ma nella stragrande maggioranza dei casi quando si ha questo impianto fornisce sia il servizio di riscaldamento che il raffrescamento. Nel caso fornisca entrambi i servizi quello che devi fare è andare a calcolare la potenza sia in riscaldamento che in raffrescamento di ogni singola zona perché nel momento in cui con la stessa unità interna fornirai il servizio di riscaldamento e raffrescamento dovrai scegliere la taglia che riesce a garantire il carico più sfavorito quindi quello più grande sia in riscaldamento che in raffrescamento cioè la tua unità interna deve andare a sopperire al carico massimo tra quello calcolato in caldo e in freddo perché ovviamente dovrà soddisfare entrambi i servizi e quello è il primo passo quindi il tuo software certificato dal CT che utilizzi per fare gli APE per fare la legge 10 è utilissimo, anzi è fondamentale per andare a calcolare questo dato e questo dato lo devi calcolare andando appunto a forzare o meglio ad adattare quelli che sono i ricambi interni cioè non devi andare ad utilizzare i ricambi che utilizzi per fare il calcolo dell'APE ma devi utilizzare dei ricambi per andare a calcolare la potenza dei determinati locali quali sono i ricambi che utilizzo? tendenzialmente utilizzo 0,5 volumi ora per tutti gli ambienti ma è ovvio che visto che questo impianto è quello che meglio si sposa con gli impianti di tipo commerciale devi andare ad analizzare zona per zona quelli che possono essere i ricambi orari per esempio se hai delle zone dove ci sono delle estrazioni perché magari ci sono dei cattivi odori ci sono alcuni ambulatori dentistici che hanno delle estrazioni forzate per i cattivi odori e quindi in quel caso i ricambi orari saranno maggiori devi fare delle valutazioni specifiche caso per caso se non hai ricambi orari puoi utilizzare tranquillamente 0,5 per tutti gli ambienti 0,1 per magari i bagni 3 per i bagni ciechi insomma devi fare dei ragionamenti per andare a calcolare appunto quelli che sono le dispersioni per ventilazione che poi sommate alle dispersioni per trasmissione ti daranno il calcolo di potenza di quel determinato locale e questo è veramente il punto fondamentale perché da quel calcolo di potenza andrai a scegliere la taglia dell'unità interna dalle taglie dell'unità interna andrai a scegliere la taglia della pompa di calore esterna dell'unità esterna diciamo e a quel punto una volta che avrai collocato l'unità esterna e le unità interne andrai a dimensionare tutti i collegamenti tramite un software del produttore che potrai decidere di utilizzare tu di farti aiutare dall'agenzia di zona ma in questo modo potrai valutare vari fattori di correzione e soprattutto dimensionare in maniera automatica quelli che sono i collegamenti appunto tra le varie unità ma il primo passo è proprio quello di utilizzare il software certificato dal CTI e scegliere la taglia delle unità interne poi può essere che venga diciamo alla luce un processo iterativo perché non sempre la prima scelta è quella giusta ma ovviamente può succedere che alcuni fattori di correzione ti portino a dovere riadattare il calcolo ma solitamente quando tu calcoli un carico interno e prendi una taglia di unità interna che riesca a soddisfare tranquillamente quel carico che hai calcolato non ci sono mai grossi problemi è difficile spiegare tutti questi procedimenti in un video da caricare diciamo su YouTube e quindi noi di Cefti abbiamo creato VRF Pro un vero e proprio percorso che ti farà diventare un progettista di questa tipologia di impianti anche se non ne hai mai realizzato uno in vita tua è il primo percorso esistente in Italia ed è unico nel suo genere perché abbiamo coinvolto con noi sei produttori veramente blasonati di questi sistemi che hanno progettato e venduto milioni di questi sistemi non solo in Italia ma in tutta Europa e abbiamo coinvolto anche 5 software house che hanno dato il loro supporto per spiegarti esattamente come andare ad inserire all'interno del software questi sistemi VRF come inserirli correttamente per realizzare ad hoc un'app e per realizzare ad hoc una legge 10 ti faranno vedere come andare a calcolare anche le potenze per scegliere poi la taglia delle unità interne e inoltre abbiamo accreditato questo corso all'ordine degli ingegneri quindi potrai avere facendo questo corso anche i crediti potrai scegliere nella modalità con crediti nella modalità senza crediti e ultima cosa adesso mentre stai guardando questo video beh c'è un'offerta per i primi 50 che entreranno all'interno di questo corso di informazione per cui ti consiglio di non farti scappare questa offerta di cliccare il link che lascio in descrizione in questo video e richiedere maggiori informazioni bene io spero che tu abbia trovato interessante questo video perché ho voluto darti anche qualche spunto proprio per quello che riguarda l'aspetto commerciale che secondo me devi seguire e devi approcciare per riuscire a ampliare quello che è il tuo plafond di lavoro anche in questo periodo storico se l'hai trovato interessante prima di salutarti ti chiedo ovviamente di mettere un like a questo video e iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanellina perché in questo modo continuerò a portarti contenuti sempre nuovi e interessanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti